Perché iscriversi al postgrado esperto universitario in intervento strategico nei contesti sociali ed educativi? Per comprendere e imparare come si formano i problemi nelle relazioni, come si alimentano e persistono, come possono essere risolti in tempi brevi ed in modo efficace. Per quanti parteciperanno a questo postgrado sarà un'avventura, un viaggio di scoperta, perché come asseriva Marcel Prost, il vero viaggio di scoperta non è visitare terre lontane, ma vedere le stesse terre con occhi diversi.